Il centro di riabilitazione Teri offre riabilitazione e fisioterapia completa di percorso in piscina calda a 34 gradi. Ti aspetta Cava dei Tirreni in via Gino Palumbo numero 19. L'attesa per la sfida con la capolista era diventata interminabile, ma comunque finirà. La primavera cavese di calcio a 5 dovrà affrontare domani sera la Nuceria prima in classifica e potrebbe doverlo fare con qualche problema di formazione, che però l'allenatrice Cira di dato spera di poter aggirare in qualche modo. La fissazione dell'incontro non è stata agevole. In un primo momento Primavera Cavese e Nuceria avrebbero dovuto affrontarsi sabato scorso alla palestra Monticelli di Cava dei Tirreni, ma l'allerta meteo ha costretto il comitato regionale campano a far slittare di una settimana tutte le attività. Inizialmente si era deciso però di spostare questa partita in particolare a martedì scorso, ma non si è potuto fare per mal tempo, quindi è stato reso necessario un nuovo rinvio. Le due società avevano convenuto sull'opportunità di recuperare la loro partita per mercoledì 18 gennaio, con proposta congiunta formulata al responsabile del calcio a 5 per il comitato campano. Invece il comitato stesso ha proposto un giorno differente, sabato o domenica, e dal momento che la palestra di Santa Lucia la domenica sarebbe stata indisponibile, il presidente Metelliano Di Criscio non ha potuto fare altro che accettare il sabato, quindi si gioca domani con inizio alle ore 20. Problemi di formazione, dicevamo. Alcune giocatrici hanno avuto difficoltà ad allenarsi per i postumi dell'influenza e c'è anche il portiere Capuano, che è stata bloccata da un infortunio, mentre la dodicesima, Uffiero, potrebbe essere indisponibile per altri motivi. Di dato dovrà valutare di mandare in porta una giocatrice di movimento oppure una calciatrice molto più giovane, che però sia un portiere di ruolo, quindi andare a pescare anche nel settore giovanile.